Ormai penso lo sappiate molto bene, ogni tanto Nintendo mi manda qualche pacco e come avete intuito dal titolo, beh, me ne ha mandato un altro che contiene non so ancora cose in realtà. Data l'uscita recentissima di Paper Mario, suppongo che sia qualcosa a tema e lo scopriamo insieme in questo video. Paper Mario è tra l'altro una delle uscite migliori di quest'anno di Nintendo Switch, quindi a prescindere che vi piaccia o meno il gioco, dategli una chance, guardate qualche video, informatevi, perché potrebbe essere una bella rivelazione. La grande fortuna dei giochi di Paper Mario è che non necessitano altri titoli per capire quello che stai giocando, a differenza di magari altri giochi che hanno sequel, prequel e via dicendo. Comunque ecco il pacco e, come potevamo intuire, è Paper Mario il portale millenario. In questo caso specifico si tratta di un gioco che è uscito in realtà su Gamecube circa 20 anni fa, e dopo averlo provato sul canale vi posso dire con certezza che hanno fatto un ottimo lavoro nel sistemarlo esteticamente. Non che fosse brutto, perché la maggior parte dei giochi Nintendo hanno la grossa fortuna di non necessitare un graficone. Ma gli anni sul grappone si vedono su tutti i giochi, anche quelli meglio riusciti. Io onestamente comunque non so davvero cosa contenga sta roba, però è una scatola clamorosa. D'altro non sapevo nemmeno di dover ricevere un qualcosa di così grande. Semplice slide, un semplice slide. E vedo già un bel po' di roba, a dire la verità. Vi faccio vedere anche questa parte della scatola che secondo me merita. Mi è arrivato un odore di stampa addosso incredibile. Allora abbiamo ovviamente la maglietta, che questa già si vedeva prima. Ho visto anche il retro. Abbiamo sia Mario che mi pare si chiami Goombella, se non mi ricordo male. In italiano si chiama Goombella, sì. Ok, io non ho giocato il gioco fino alla fine. Ho tecnicamente la fortuna di essere in blind. Spero che sta cosa non sia tipo uno spoiler gigantesco. Perché, wow. Però, bella stampa in realtà. Penso sia anche una maglietta ufficiale, a dir la verità. No, non vedo loghi strani, però sì. Grazie a Nintendo, che come al solito mi mandi un botto di ste magliette. Sono comodissime. Ovviamente il gioco ho anche preso per conto mio. Ma vabbè. E tra l'altro apro adesso, così vi faccio vedere un po' com'è la versione fisica di sto gioco. Allora, dietro è completamente in italiano. Ok. Dentro non ci sarà ovviamente nulla. No, in realtà può essere invertita. Ok, si può togliere e mettere al contrario, perché ha un disegno interno. Carina come roba. Questa è la mappa per andare verso il tesoro di cui parla il gioco. La cartuccia ha il logo normalissimo. E ho visto che nella variante americana del sito di Nintendo ti fanno scaricare anche la copertina da ritagliare con la variante Gamecube. Quindi puoi metterla e far finta che sia quello per Gamecube. Che in realtà molti non penso compreranno perché costa l'ira di Dio. Ve lo dico già. Sono quei classici giochi che col tempo guadagnano un valore collezionistico immenso. Ci sono anche dei portachiavi. Ne vedo tre per adesso. Bello sto Yoshi Punk. Mi piace un sacco. Comunque, portachiavi in realtà fatti da Dio. Penso siano quelli che danno nel Nintendo Store. Penso siano morbidi. Ok, quindi non si rovinano. Perfetto. Questi sono non adesivi ma magneti. Credo. Perché gli adesivi Nintendo li vedo spesso. Sì, sono magneti. Bello. Bello. Ho un sacco di roba a sto giro comunque. Sì, dovrebbero essere magneti. Sì, perfetto. Questo cos'è? Questo lo apro a breve per scoprire cosa sia. Una lettera che leggo a breve. Questo cos'è? Ok, è da piegare. Ho strappato tutto. Ho fatto un danno. Lo sapevo. Ah, è tipo... What? Vabbè, è una stampa di Mario. Fino a qua c'ero. Cioè, li devo piegare e fare degli aeroplanini? Ah, un tutorial su come fare gli aeroplani. Va bene. Bello Fabriano! Perché? Cioè, sì, carta. Oh mio Dio. Un gioco di Super Mario sulla carta. Mettiamoci la carta. Ma penso sia proprio una collaborazione. Cioè, se non ho visto male, ci dovrebbe essere una collaborazione tra... Ora ho capito! Fabriano mi aveva messo il follow su Instagram. E non capivo come mai. Ho detto, cavolo, ma... Cosa è successo? Collaborazione? Ok, ci può stare. Allora, per chi non lo sapesse, tra l'altro Fabriano dovrebbe essere nelle Marche. Se non dico una scemenza, per favore, amici marchigiani, non mangiatemi vivo. E producono carta, in realtà, di qualità da secoli. Cioè, non anni. Secoli. Ok? E in realtà sono quel genere di cose che noi italiani dovremmo essere tipo super orgogliosi nel mondo. Perché fanno carta di qualità a livelli assurdi. Ok, sì, c'è tipo una lettra. Leggiamola. Si è appena stato bannato. Diventa il primo attore sul palcoscenico più colorato e sottile di sempre. Esplora in lungo e in largo Fannullopoli. In Paper Mario, il portale è millenario. Affrontando spettacolari combattimenti a turni per sconfiggere i nemici insieme alla tua banda di sorprendenti personaggi. Libera la tua creatività con l'aiuto di Fabriano e trasforma le tue idee in coloratissime creazioni e giochi. Allora, bello il font che emula la scrittura a mano. Mi è piaciuto? Qua ci sono gli hashtag soliti. Bellina la lettera. Però noi abbiamo un compito, capire cosa c'è qua dentro. La scatola verrà sapientemente riutilizzata. Non penso ci sia bisogno in realtà della... C'è bisogno della taglierina. Comunque, questo è Paper Mario 100%, ne sono sicuro. Perché c'è il logo dietro. What? Ah, il diorama! Eh, vabbè, questo... Questo è bello da montare, eh. Questo è bello forte da montare. C'è un taglierino qua. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, ci sono tecnicamente le istruzioni, mi pare di aver visto. Ok, però sono tanti pezzi. Sono veramente tanti pezzi. Vabbè, le istruzioni in realtà sono semplici. Sono relativamente semplici. Ehm... Nintendo Labo. Va bene. Ma in realtà non sono così tanti pezzi e ti dirò. Ho ancora il PTSD da Nintendo Labo, comunque. Ok, credo di averlo finito. Ho fatto un macello che non vi dico. È carino perché comunque avanzano anche dei pezzi che tu puoi mettere come nemici al posto di altri. Io per esempio ho seguito le istruzioni e come vedete qua mi fa mettere... Goomba, Bobomba, Piantapiragna, Koopa e Koopa con l'armatura. Mentre dall'altra parte c'è Mario e Goombella. Se mi ricordo il nome correttamente. È molto carino in realtà. Mi aspettavo un risultato peggiore. Le mie skill. Faccio vedere anche qua. Guardate un po' che carino. Sacco bello, dai. Questo da esporre così non è affatto male. E dopo averlo montato, beh, noi ci vediamo il più possibile con un nuovo video oppure in live. Non mancate.